Lo sport dal Corriere dell'Umbria, Perugia, dubbio Fabinho, Grifo altre 48 ore per recuperarlo, il brasiliano non si è ancora allenato con i compagni, dopo la botta al ginocchio è emergenza, Terzini. E poi andiamo a Terni, svolta Breda, Fere, tre moduli per Crotone. Il tecnico blinda l'allenamento e sperimenta il 4-3-3, il 3-5-2, se non vanno c'è il 4-2-3-1. Il città di Foligno in carreggiata, domenica sotto con la Sangio, falchetti tonici con Del Colle pronto a metterci la mano sul fuoco. E poi, sempre dal Corriere parliamo di Gubbio, la sfortuna vale meno 7, Balistreri non salta il derby, all'attaccante è stato applicato un tutore alla mano infortunata, domenica scorsa e dunque ci sarà tra legni e rigori sbagliati, la Dea Bendata si è presa un bel bottino. Parliamo di volley, Cev Cap maschile, missione computer, Sir Safeti si coma, vola agli ottavi, battuto nel ritorno dei sedicesimi il Cez, 3-1, adesso sotto con gli Slovacchi. E poi parliamo di palla ovale, ovvero di rugby, adesso la palla ovale stregacetta di Castello, in vetrina una società con oltre 150 tesserati, 12 allenatori e tanto entusiasmo. La Speed Motor Gubbio fa sempre più rima con successo in raffica, Urbani splendido secondo a Magione, sugli scudi anche Biccheri e Lilli, il tutto nello scorso fine settimana. Per il karate, Terni da urlo al pala paternesi, quinta assoluta su 70 società, ai nastri 800 atleti, gli Umbri vanno bene. Questo era il Corriere, il giornale dell'Umbria, il rilancio con un trittico di rinforzi. Sondaggi, siamo ovviamente a Perugia, sondaggi per due terzini e una punta, si lavora su 5-6 cessioni, zebli o drole plus valenze in vista. A Terni 100 volte ceravolo, a Terni vivo bene. La punta rosso-verde verso la centesima presenza, a quanto al rinnovo non ne ho parlato ma vorrei rimanere qui. Foligno rimonta e sogna Monaco, il piano della società, Natale in zona vetta, il giovane ex intanto lancia messaggi da Lecce. E a Gubbio voglio tornare subito in campo, Ferri Marini scalpita dopo l'infortunio sul mercato, obiettivi terzino e centrocampista. Gualdo tutti concentrati verso Gaborrano, dopo i tre punti di domenica Bocchini vuol tenere alta la guardia. Movimenti per Castello e Spoleto, il posticipo toscano finisce 2-2. Grifo e siamo al messaggero, Guberti a un passo, ore decisive per il ritorno del centrocampista. La FIGC pronta a rivedere la squadra, per Bisoli rinforzo pesante. Ardemagni colpito dura la caviglia in allenamento ma la paura dura poco. Sir Sicoma bis al Carlo Varsco e il sogno Cev continua ovviamente, parliamo di volley. Uno sguardo anche al Foligno, un sorriso anche per Napolano, il fantasista è tornato al lavoro pronto per Poggi Bonzi. Chiudiamo con la Nazione, da Perugia Fabinho in dubbio del prete c'è. Il brasiliano ha i box per un fastidio al ginocchio, Zapata e Parigini sono in rampa di lancio. Ternana, bunker anticrotone, dubbi in difesa per il tecnico, Breda studia la formazione con allenamenti a porti chiuse. A Città di Castello, Serie D, Caldei, grazie tifosi, ora non fermiamoci. E a Gubbio, faccia a faccia tra presidente ed allenatore, notari, abbiamo fiducia in Maggi. Ferri Marini e Balistreri recuperano a Foligno la ricetta del Colle, pronti anche a soffrire. Nella pagina dedicata agli altri sport, la Sirsafeti Perugia brinda in coppa. E poi per il volley di serie B1 femminile, San Giustino piacevole sorpresa. Team in zona playoff. Giorgi, concediamo poco. Era l'ultima notizia, vi ricordo le informazioni in tempo reale sul sito www.trgmedia.it. Dalle 19 ITG e poi questa sera ore 21 torna su TRG Canale 11, link dedicato al commento dall'Umbria di quello che è accaduto in questi giorni e sta accadendo purtroppo a Parigi. Grazie per averci seguito, a voi una buona giornata. Grazie per averci seguito, a voi una buona giornata.